Bella a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati col Venezia nella ricerca del triplete signori miei Allora, prima di partire dal video signori miei io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che vi lascerete a questo video Per il supporto che state dando e che darete a questa serie, speriamo di riuscire a portarci a casa il triplete Chi sono quei giocatori? Non ne conosco uno dell'Inter, ma chi so, chi è il biondone lì a sinistra? Bah, irriconoscibili Oltre a questo vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram con il link in descrizione E anche se volete supportare il canale con delle donazioni, trovate anche il link in descrizione per dare qualche donazione Detto questo signori miei, partiamo con il video Ok signori, siamo agli ultimi giorni di mercato Noi non abbiamo fatto alcun tipo di mercato perché non abbiamo obiettivi per la quale Andiamo a vedere queste tre mail che abbiamo in ufficio Offerta per il prestito di wood, il nostro pezzo di legno non si tocca signori miei Rifiutiamo l'offerta Alerta Bellino, voleva il prestito del nostro pezzo di legno per un anno Offerta per wood, basta mi sono rotto le scatole di queste offerte Non vendiamo nessuno, non si vende e non si compra Il nostro circo Venezia va dritto però su strada Intanto lì a destra ci ricordano la grande doppietta di Dell'Orco Offerta per il trasferimento per Ethan Laird 5.4, no, non vendiamo nessuno Parca di una paletta Intanto Eriksen è passato dal Tottenham al Manchester United Nella realtà Eriksen è passato dal Tottenham all'Inter Però dettagli, dettagli, la fantasia di FIFA va oltre Offerta ritirata, offerta per Padelli Chi è che ha offerto per il nostro portafortuna? Che squadra è? Il Sion? Porca miseria, Padelli ti ci farei andare Guarda, però sei il nostro portafortuna Non possiamo fare a meno di te Ragazzoli, concludiamo velocemente queste ore di mercato E andiamo alla partita che ci aspetta in questo episodio Ok ragazzoli, il mercato è finito Noi sono arrivati alle offerte sul finale Per Isaac di 56 milioni Cioè io non ricordo quanto abbiamo comprato Isaac Ma è assurdo E anche per Collina Collins 48 milioni Cioè impressionante quello che è arrivato Come offerte proprio sul finale del mercato Abbiamo Baker So che sta cercando un sostituto Nel ruolo di terzino Ma di che stai a dire? È la tua occasione Non so di cosa sta parlando Baker Non so Come dici tu Allora, noi abbiamo una partita contro il Frosinone Io contro il Frosinone devo andare in campo nuovamente I panchinari, signori miei Portandomi sempre però in panchina La rosa forte, diciamo Ovvero un bapè Me e Messi Ne mar me lo porterei pure al posto di Richelme Sinceramente così riusciamo a fare eventualmente Delle sostituzioni Al punto giusto Noi ci sono rimasti sulla pancia Sia Materasso Eminflex Che la Pecora Dolly Praticamente E vabbè Ci sono rimasti un attimino sulla pancia Comunque Formazione pronta Ci vediamo in campo raga Ok signori miei Ci siamo Venezia Frosinone Siamo a Pierluigi Penzo A casa nostra Sta piovendo Però Dobbiamo stare tranquilli Noi veniamo dalla Roboante Vittoria contro il Verona E non dobbiamo perdere punti Contro Diciamo una piccola E soprattutto Dobbiamo perdere punti Nella rincorsa Alla Juventus Quindi vediamo subito Di metterla in discesa Questa partita Vai Benny Vai Benny Benitez Vai Benny Benitez Che vede Abe Abe cerca di liberare il destro Il tiro La palla non arriva Nemmeno a Benny Benitez Su rimpallo Colpo di Tesca Di Ampadu Che riesce a passarla Ah la palla arriva Di Abeledo Abeledo Che cavolo fa Abeledo Il nostro Abe No mamma mia Che fallo che stanno a fare raga Il Frosinone riparte con Falke Che è arrivato nel mercato di gennaio Ma grande Ambarapacicicocco Grande recupero di palla Palla largata per Castagna Castagna non va sulla fascia Cerca le vie centrali E sbaglia Ma parca di una paletta ambriaga Il Frosinone riparte Parla a centrocampo Cercano i passaggi 1-2 veloci Per cercare di sfondare sulla fascia Ambarapacicicocco Grande l'intervento No no Abadu la buca La stoppa due volte Va bene così Il Frosinone mette la testa fuori Dalla propria area Dalla propria area di gioco Diciamo E si fa sentire Si fa sentire Il Venezia riparte sulla destra Con l'Aird Accelerazione di l'Aird Accelerazione di l'Aird Che vede Benny Benitez Benny Benitez la stoppa La gira indietro per Abe Abe vede il movimento di Isaac Isaac cerca di fare salire la squadra Isaac 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 Vede il buono movimento Di Benny Benitez Benny Benitez Dai Ma dai Ma per pochissimo Isaac recupera una gran palla Isaac vede Wood 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 Che l'apre per Castagna Castagna in posizione Perfetto l'inserimento Nella nostra Castagna Signori miei La sblocca lui al tredicesimo Venezia 1 Frosinone 0 Grandissimo il gol Bravissimo Wood Che l'ha data Perfetto l'inserimento L'inserimento perfetto Di Castagna Che guarda Tira il volo di destro Nonostante lui sia a sinistro Ottimo così Timotì Il nostro Timotì Castagna Non è mai che l'abbiamo Sognato Castagna Signori miei So che si pronuncia In un'altra maniera Castagne o qualcosa del genere Ma noi l'abbiamo Sognato Castagna Sulla fascia di sinistra Sempre pronto raga Sempre pronto Castagna Attenzione al Frosinone Però Attenzione al Frosinone Che riparte subito Proprio sulla fascia di Castagna Riesce a superare il blocco Attenzione Cerca di raggiungere il fondo Ma ancora Viene stoppato Ma la palla ha recuperato ancora Il Frosinone Il Frosinone che cerca di dimostrare Che è ancora in campo Non è perso È grande il recupero di Baker Grande il recupero di Baker Bravo Baker Che non molla un centimetro Palla ancora a Castagna Castagna che vede Isaac Isaac si gira sul cerchio di centro campo Isaac si ferma Isaac Temporeggia troppo Però la palla per fortuna Arriva Albitro Era fallo Albitro Perché non mi ha dato il vantaggio Mannaggia a te Apertura sulla fascia Per il Frosinone Recuperata Baker che la gira per Cumbulla Cumbulla Vede Ambarabacicicoco Sul cerchio di centro campo A palla Che arriva al pezzo di legno Wood Wood che vede Isaac Isaac che non va mai in profondità Isaac aspetta il pallone Sempre per far salire la squadra Non va mai in profondità Cercando il passaggio lungo Cerca Cerca di far salire con calma La squadra E i compagni Ancora Baker Letteralmente Buttata a terra Baker Strattonato Grandissima partita di Baker Bravo Baker Che ora batte questa punizione La batte corta per il piccolo Cumbu Cumbu La dà sulla fascia per Castagna Castagna la stoppa Con i bellissimi scarpini Rosa Rosa per Wood Wood ancora per Isaac Che come vedete Si fa trovare sempre In una posizione buona Isaac cerca il movimento Di Castagna Ancora Nell'inserimento Ma la palla viene Anticipata Palla al centrocampo Ambarba Ciccocco Recupera un pallone Si gira Wood Attenzione a Wood Ancora 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 Isaac Isaac vede il movimento Di Castagna Impressionale Castagna è dopato Castagna in questa partita È dopato Cioè quanti inserimenti Sta facendo Cioè difensivamente parlando Non si sta facendo vedere Su quella fascia Perché meno male Che c'è Baker Ma in attacco Sta facendo gli inserimenti Che sono paurosi Attenzione Isaac Isaac vede il movimento Di Benny Benitez Benny Benitez Sulla fascia Decide di fermarsi Benny Benitez Grandissimo Il numero La gira dietro Per Abe Che sfonda I guanti Del portiere Del frosinone Ma non riesce a segnare Non riesce a segnare Grandissimo Il tiro di Abe Attenzione Calcio d'angolo Di Benny Benitez Che è la gira Per Abe Abe Che ha ancora Il piede caldo Che vede Wood La palla arriva Ambarba Ciccocco Sulla respinta Ambarba Ciccocco Riesce a servire Non so chi Palla per Isaac Palla respinta Castagna non ci arriva Dovrebbe essere ancora Calcio d'angolo Se non sbaglio Sì 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 Ancora calcio d'angolo Per il Venezia Pallone battuto corto Da Benny Benitez Che la va a dare A Wood Se non sbaglio Sì Wood 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 Non ci pensa troppo La tira direttamente Il portiere la para Il portiere era ben piazzato Bello il tiro di Wood Ma il portiere era ben piazzato Recupera la palla Ampadu Il Venezia la vuole chiudere Prima della fine del primo tempo Palla per Benitez Che si fa anticipare Quando stava per caricare Il destro Mannaggia Il Venezia è proprio Tutto Nell'area Di gioco Del Frosinone Raga Palla per Isaac Che sbaglia in movimento Isaac Sbaglio in movimento Attenzione alla Frosinone Che vuole ripartire Attenzione alla Frosinone Cerchio di centrocampo Per il Frosinone Passaggi veloci Passaggi veloci Il Frosinone sta salendo Ricordiamo che Il Venezia sta vincendo Solo 1-0 Tante occasioni Ampadu Ampadu L'anticipo perfetto Ma la palla torna al Frosinone Attenzione al limite dell'aria Entra in area il Frosinone Attenzione passaggio Plizzari La salva lui La salva lui signori miei E poi rinvio La palla che arriva Benipenitez Subito Benipenitez Vede Isaac In profondità Palla sulla faccia per Isaac 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 è da solo Però vede Wood 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 Nannaggia Attenzione la palla Ve l'ho recuperata Da Benipenitez Che vede ancora Isaac Che vede ancora Castagna Che vede il movimento Di no Per poco Wood Non arriva A trovare la conclusione Di sicuro ha beccato La spalla del portiere L'avrà fatto malissimo Però siamo in un videogioco Quindi tutti i miracoli Tutti si alzano subito Attenzione al contropiede Veloce del Frosinone Mambadu Pensaci tu Ci pensa lui Due minuti di recupero Plizzari la spazza via L'abito dovrebbe fischiare A fine del tempo Non è così Non è così Albitro Siamo a tre minuti di recupero Ne hai dati due Albitro Sveglia Ok Fine primo tempo Signor di me Venezia Uno Frosinone Zero Partita da prendere Con le pinze Signori Perché il Venezia Ha sprecato tantissimo Il nostro circo a Venezia Ha sprecato tantissimo Abbiamo sprecato tantissimo La Juventus Che sta a fa? Non me lo dicono Ma perché non venivano I risultati delle squadre Che mi interessano Anche con i gamberetti Va bene Allora Ripartiamo così Secondo tempo Venezia Frosinone Diceva una partita Da prendere con le pinze Perché il Venezia Ha sbagliato tantissimo Il Frosinone Si è fatto sempre sentire Quindi non ha mollato mai La partita La partita Ehm Bisognava chiuderla Questa partita Già nel primo tempo Attenzione Frosinone A limitare l'aria Plizzari In maniera plastica Recupera il pallone Attenzione Vediamo ora Plizzari A chi la dà Vede Baker Su quella fascia Sulla fascia sinistra Baker Per Ambaravacci Ciccocco Ambaravacci Ciccocco Per Castagna Castagna Che si ferma Vede il movimento Di Tim Del nostro Isaac Newton Palla che torna Castagna Che però lo chiudono In otto Signori miei Tutta la squadra Il Frosinone E' andata a chiudere E' andata a chiudere Il nostro Castagna Intanto prossima partita Sarà Roma Roma Venezia Tanta Roma No 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 Lasciato la sola in aria Plizzari Fa il miracolo Attenzione Al Frosinone Signori miei Che al 42esimo Butta uno squillo pesante Fa sentire la sua presenza Ancora in campo Attenzione Scontro fra giocatori Del Venezia Il Frosinone Recupera il pallone Palla messa fuori Ma il Frosinone Continua Ambaravacci Ciccocco Palla che arriva Baker Con calma Baker Cerca di far uscire Il Venezia Ambaravacci Ciccocco Per Castagna Castagna Per Wood Wood che è molto stanco Wood che vede il movimento Perfetto di Isaac Isaac deve solamente correre Isaac la può chiudere Isaac a limite dell'aria La piazza No Salvataggio Spettacolare Del portiere Del Frosinone Che tiene ancora Il Frosinone In piedi Signori Mamma che salvataggio Che ha fatto Il Frosinone Il portiere Del Frosinone Attenzione Calcio d'angolo Ancora Benitez La gioca corta Per Ambaravacci Ciccocco Ambaravacci Ciccocco Vede l'inserimento Di Wood Che la tira al volo Secondo me L'ha presa di mano Raga Secondo me L'ha presa di mano Però non c'ho voglia Di vedere il replay Perché qua Il Frosinone E' morto a ripartire Ambaravacci Ciccocco Va in chiusura Il Frosinone Supera la metà Campa Attenzione Attenzione Ancora Palla sulla fascia Grande L'intervento Del piccolo Cumbu Che però Ci sta tre anni Per rialzarsi Giustamente Il Frosinone Recupera la palla E che niente In Venezia Aveva recuperato Per un attimo Il pallone E il Frosinone Nuomamente Si è ripreso Il pallone Attenzione A questi Questi movimenti In profondità Attenzione Buono Meno male Meno male Meno male Salvataggio Di non so chi Salvataggio Di non so chi Forse il piccolo Cumbu Attenzione Attenzione Wood 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 Che non ce la fa più Signor mio Wood Non ce la fa più Wood Non ce la fa più Fa più Baker 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 Per Castagna Castagna Subito Che cerca il movimento Di Isaac Porca di una paletta Ambriaca Aia Vedete Il Frosinone C'è Il Frosinone C'è Signori mie Il Frosinone Ancora in campo Ampadu Pensaci tu Palla per Cumbulla Cumbulla La gira per Castagna Partita senza soste Signori Isaac 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 Vede Wood Vede Wood Che vede Castagna Castagna Per la doppietta Castagna Timothy Castagna Signori mie La chiude lui 2-0 Bellissima la doppietta E ancora L'assete Wood Timothy Wood Isaac Castagna Spiazzato Ancora di destro Porca miseria Doppietta di destro Per Castagna Bella così Bella così Secondo gol In giornata Per un totale Di 5 golli In Serie A Per quest'anno Per Castagna Facciamo le sostituzioni Che sono un po' Tutti Abbastanza Colti Allora Leviamo Wood E mettiamo Mettiamo Dell'orco Signori mie Così si fa La sua bella partitina E lasciamo dentro Isaac Leviamo Benny Benitez E mettiamo E mettiamo Neymar E spostiamo Neymar Di qua E Castagna Di là Castagna Non lo so fare All'esterno destro Sì Neymar Invece attaccante Sinistro Mettiamo dentro Giocatori pesanti Signori miei E facciamo anche così Dai Facciamo uscire Prizari E diamo L'altra partita A Padelli Dai A meno Lo facciamo giocare Anche qualche sprazzo Di partita 2 a 0 67 Dico Siamo abbastanza Sul velluto Signori miei Tra l'altro Sono entrati anche Neymar Dell'orco Dico Siamo abbastanza Coperti Se ci fanno Due golle In 30 minuti Di partita Io abbandono la serie Signori miei Io abbandono la serie E do fuoco A Padelli Praticamente Comunque Il Venezia Continua a ripartire Parla a centrocampo Per Isaac Che cerca Il movimento buono Cerca il movimento buono Vede dell'orco Dell'orco Che viene dalla doppietta Contro il Verona Di domenica scorsa Domenica scorsa No Della scorsa partita Vediamo se riuscirà A fare qualcosa Di Fare un'ottima prestazione Anche oggi Anbarbacicicocco Strattonato Ma riesce comunque A tenere palla A centrocampo Parla che torna Anbarbacicicocco Che vede Neymar Che vede Neymar Che vede il movimento Di Baker Che però si ferma Baker 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 Vede Isaac 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 Anticipato C'era l'inserimento Di Sheck dell'orco Molto buono Allora Attenzione a Frosinone Attenzione a Frosinone Che cerca ancora Di rimanere in partita Rimanere in partita Certo un gol Darebbe fiducia Al Frosinone E riaprirebbe la partita Pesantemente Dell'orco Dell'orco per Timothy Dell'orco per Timothy Non è lui Timothy Porca di una miseria Lui è Isaac Newton Isaac Newton Che cerca di liberare Il destro Riesce a liberarlo E il portiere Del Frosinone Salva Attenzione Pensavo fosse Calcio d'angolo Invece no Mi sono fermato Con Castagna E invece Pensavo fosse Calcio d'angolo per noi Invece il Frosinone È riuscito a ripartire Sulla fascia di Sulla loro fascia sinistra Praticamente Sta arrivando fino al fondo Fondo campo Grande l'intervento Di Laird Che non si fa passare Il piccolo Kumbu Kumbu per Anbarbacicicocco Anbarbacicicocco Per Baker Baker per Isaac Isaac che la lancia Per Neymar Vediamo se riesce a portarsi Il pallone a Neymar No Anticipato Anticipato Isaac non riesce A recuperare il pallone Attenzione Palla larga Anbarbacicicocco Va a chiudere Sulla fascia destra Del Frosinone Palla crossata Al centro Troppo indietro E il Venezia Cerca di ripartire Scheck dell'orco Non si capisce cosa fa Cerca ora di recuperare Il pallone Scheck con l'intervento Un po' inutile Però va bene Il Venezia riesce a recuperare A Barbacicicocco Scheck dell'orco Scheck dell'orco Scheck dell'orco Raggiunge il cerchio Di centrocampo E poi perde il pallone Perché si scontra Faccia a faccia Con il difenso Del Frosinone Attenzione Aiaiaiaiaiai Mamma che intervento Del piccolo kumbu Cartellino giallo Graziato Cumbulla Maras Cumbulla Graziato Signori miei Brutto fallo Brutto fallo E punizione Per il Frosinone Vediamo se riescono A trovare il gol Padelli Chiamato All'impresa Sbagliano loro direttamente Padelli nemmeno si impegna Padelli ha continuato a bersi il caffè che si stava bevendo Prima della punizione L'ha continuato a bere anche quando è stata tirata la punizione Perché hanno sbagliato loro per fortuna Ripartiamo noi Venezia, Venezia, Venezia Ambar Bacicicocco, vede Neymar Junior Vede Neymar, il nostro simulatore Si ferma, non vuole andare fino in fondo Il nostro simulatore entra in aria Cerca il tiro, Ambar Bacicicocco Finta di tiro di Ambar Bacicicocco Che comunque tiene il pallone, tiene il pallone all'imito dell'aria Si c'è il suo stesso, Ambar Bacicicocco Ci ha provato, ha provato la bella giocata Ambar Bamba non gli è riuscita Il franzionale cerca di uscire Siamo al centro, ma non è la partita è finita Due minuti di recupero, si aspetta solamente il fischio finale Del portiere, dell'albitro Attenzione ancora, Kumbulla Kumbulla, Ampadu, pensacci tu Ferma tutto, è l'albitro Fischia la fine della partita, dopo tre minuti di recupero Ce l'ha come vizio sta albitro Ce l'ha come vizio praticamente Da sempre un minuto in più di recupero Su quelli dati Detto questo, il Venezia batte il Frosinone Signori miei Il nostro comodino fa i complimenti a non so chi Non so chi sia allenatore del Frosinone E noi ce ne torniamo a casa Con tre punti importantissimi La doppietta di Castagna Signori miei E meglio di così, non c'è che dire raga Meglio di così, non c'è che dire Andiamo alle interviste Andiamo alle interviste Così c'è Facciamo pure le interviste Vediamo che ha fatto la Juve Nella partita Di campionato Le interviste saranno sempre le stesse Ovvero grande prestazione di Castagna Avete i giocatori giusti per continuare la striscia Infatti Castagna è straordinario Poi Pensa di riuscire a proseguire Abbiamo i giocatori giusti Per continuare la striscia La terza domanda Non lo so Signoremente Crede che la squadra frosinone Se la partita è già sconfitta No per niente E' vero Noi siamo stati Oh, è stato in campo Il frosinone Il frosinone è stato molto in campo Solo noi siamo stati molto superiori Niente da dire Niente da dire Va bene signori La prossima partita è contro la Roma Facciamo gli allenamenti E chiudiamo questo video Signori miei La prossima partita è contro la Roma E giocheranno i titolarissimi Detto questo ragazzi Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Per il supporto che date E che darete a questa serie E noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao